Ma Ida, io non mi hai detto che non mi piaceva, quindi Ida mi piace, esteticamente Ida mi piace e io avrei pure continuato. Il blocco che c'è stato con Ida, allora non è stato tanto Brescia quando prima Palermo, perché io e Ida abbiamo avuto una telefonata prima di partire per Palermo dove c'era stata quella famosa registrazione che Ida aveva, si era espressa sentimentalmente nei miei riguardi e io non l'avevo contro ricambiata nella stessa maniera. Allora io l'ho chiamata per, dico Ida vuoi che vengo pure io a Palermo perché ci eravamo lasciati in malo modo e non era bella la situazione. No, tu mi hai detto non mi sento di venire. Volevo venire, non me la sento, non so cosa fare. No, volevo venire, solo che tu dicessi, se ti ricordi, l'assunto della chiamata era più o meno, era stata una chiamata lunga, non è stata una chiamata breve, l'assunto della chiamata era, se devi venire però non mi contro ricambi come sto a questo livello qua io. No Alessio, le tue chiamate sono state così. No, no, io parlo di quella lì, in quell'occasione lì, non stiamo sullo stesso piano dopo se la cosa non va in porto come deve andare, che non prende i piedi uguali, io ci rimango ancora di più male, ancora più male rispetto a come sto ora. Allora in quel momento mi sono sentito, un attimo, a tutti.